Mister, missione compiuta, bisognava vincere, i tre punti sono arrivati. Il primo tempo, insomma, Sant'Eodoro all'inizio ha avuto due occasioni e poi, insomma, la partita sera. No, io a parte questa settimana ho fatto due a mente. Lo fa un plauso grandissima a squadra, lo ripeto, fino alla fine. Poi ho sentito delle cose dietro la panchina mia, fa parte, no? Mariotti torna a Roma, io sono contento di tornare a Roma. Spero di aver lasciato un bel ricordo alla fine di questo terzo anno. Capisco che la gente avviene a vedere al Madrid e al Barcellona, ma io sono proprio fiero che ho visto una squadra che gioca a calcio. Mentre gli altri buttano la palla avanti, noi cerchiamo di dare un senso al nostro gioco. Perciò non posso essere solo che contento. Primo anno 48, il secondo 51, spero di finire oltre i 50 e di portare l'Annorese a fare i play-off. Era una cosa presa col Presidente e finì un triennio bellissimo. Ma poi evidentemente, e spero che auguro nei prossimi cinque e sei anni, all'Annorese di arrivare in Serie B, in Serie A, vedo un altro tipo di calcio. Una vittoria importante, tre punti per continuare a credere in questi play-off. Una partita difficile, un derby difficile. Contavano oggi tre punti, sono arrivati. In una partita sicuramente non bellissima, che poteva avere delle prospettive diverse. Però oggi erano importanti tre punti. Si va avanti, hanno vinto tutte le prime, siamo ancora agganciati al treno dei play-off. Ovviamente più si va avanti più si fa difficile, ma per l'Annorese si farà ancora molto più complicata perché ho deciso oggi di non far andare la squadra a Monterosi, sì che l'Annorese non farà la prossima trasferta. Penso che il campionato annorese possa terminare qui, faremo le partite in casa.